E' stato istituito un nucleo ispettivo, quindi andremo a verificare le cose che ci sono da verificare, sia quando arrivano segnalazioni o casi anomali, sia quando ci sono anche casi difficili che ogni tanto occupano l'interesse dei media e poi avrà un focus in questa fase importante sull'alleggerimento dei nostri pronto soccorso e dipartimenti d'emergenza.